Cazzo duro e via Fornet mi ha tanto l'impressione di essere scriptato Potrebbe essere Comunque vi posso dire che ho parlato con una persona che ha fatto un test Ha preso un account con 10.000 kill e 1.000 vittorie Un account con 1.000 kill e 1.000 vittorie Un account con Non mi ricordo quante partite 0 vittorie e 0 kill E li ha testati c'è un MMR All'interno del gioco è ufficiale Però non l'hanno ancora ufficializzato la cosa è detta Ma in base a cosa Perché io ho provato a giocare Con l'accanto a livello 1 e non cambia tanto No no c'è un MMR all'interno Del gioco In base a 2kd e win percent Beh diciamo che si Gio può parlare italiano che cazzo è MMR Bro ma mi stai trollando è come dire Ehi ha fatto il cucchiaio parla italiano What bro Il cucchiaio è il cucchiaio L'MMR è l'MMR C'è Google per queste cose ragazzi Ma non so neanche la trasposizione italiana Un sistema che calcola Qual è la Sì qua le qualità di punteggi L'elol Matchmaking Come cazzo Certo che stando a questa regola Tu dovresti trovare tipo I camaleonti Sì In partita Allora Giorgioni Io ho un Rift a Forte E' stato qui ci abbiamo pure i Rift Io devo trovare Io devo andare qua C'ho un'altra forza da 50 Un plus Che non posso portare però E c'è anche un caccia Che non posso portare Perché se no ho Rift Ammilevole granate C'è entrata la mia marra Cazzo a diritto Ma ce l'ha ancora il Rift portatile Se no lo usiamo ora No ce l'ho Ce l'ho a voglia Lo usiamo Portata apposta No lo usiamo per volare da qualche parte No 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 Abbiamo il blu Che ci sono altri Rift Tanto entriamo dentro Divot Ce lo siamo quasi fatta tutta Praticamente la mappa Se entri dentro al Divot Ci vai diretto dentro Non è Non capito Questo posto è maledetto però No veramente I bot che entrano qua Succedono cose brutte Comunque ho incontrato Un botto di pro player Lì a Stranne l'unico che conta Io Eh ho capito Non sei rimasto Delusione Eh non sto rimasto Ci siamo divertiti Ci siamo divertiti Un botto con Marco E gli altri Ma pure Ti parla con lì E tu devi conoscere Il community manager di Twitch Quello là Sebastiano È simpatissimo Quello che mi deve dare la parte C'è la davanti Sembra azzardato da parte tua Io Io ero molto lontano Sono due team Ma Marzo hai messo sconto Per caso È gente che si è timata Ma ti torno a fatti Ti torno a fatti Ti torno a fatti molto C'è un accanto Ma niente Io ho uno di vita Io devo andare Ah vai Tirate lì Ok C'è il cecchino nuovo L'avevo visto Sto giocando solo per quello Quale scusa L'affanculo No te lo puoi prendere Ah va ti lascio questo Guarda che ti ho lasciato Sì ma Giorgio è questo? Che era? Giorgio È arrivato cattivissimo Oddio Oddio Hai colpi di AR in tutto ciò Oh il rift qua lo stiamo lasciando No ma ce l'abbiamo qua il rift da prendere Vado a prendere Ah no è il rift quello per volare in giro Vieni Oddio Abbandonato così Sti cazzi Quindi colpi di AR non ne hai? Tieni tieni Ok non li ha lasciati C'è chi nada in comic No non può arrivare C'è gente c'è gente Oddio Ah la davanti Oddio Ah ma è un trazione Sì quello è un bot Quello è un bot L'altro l'ho preso in movimento in testa Spagala Spagala Annaggia Vabbè ho fatto Io manco c'è vengo là Oh mo mi devi ridare i materiali eh Addirittura Parliamo di cose se Oh vorrei Non vieni da questi Eh non vengo io là Dai è qua che non ce l'ho Va bene Ok E poi lanciacazzo Ok Oh sono ludatissimo Ludatissimo Oh ma sei pazzo Oh c'è uno davanti Merda Qua davanti a me Ho visto Freddo è uno Mi ha preso lui Ma non c'è problema Cazzo Pur uno dietro Allora vediamo Qua Qua dietro non lo vedi Oh sto ammenaggio eh E' sceso E' sceso giù Non so dove sia Oh no 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 Mi stanno volando addosso Ok Stanno finito? Stanno dentro la costruzione dove stavo io Vedi che li ho tolto 70 Ok Non ti vai cadere Ok Ok Now we got fanatic power Searching the enemy He got a tree in front of him è quello mio pure come come mother of God the shots doesn't eat mmmm 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 e uno over the hill si 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 oh mazza non è restato il tizio mi sono ancora fuori safe vado a e e e Ciao ragazzi Ciao ragazzi, questo è Spyro, porto a te un nuovo video Cazzo duro E via, con quale poi non scialanzo ho fatto tutte queste cose Sì sì che avete fatto Quando sali sopra lo vedi che arriva Hello Il cazzotto in testa Con quale prontezza quello ha messo quel muro a caso A caso a caso Sì che gli è basso 300 di tanto Però secondo me era un tic sotto Era sopra sopra Mi sono cagato Mi sono cagato pure io A fischare Mi sono cagato Mi sono cagato Non lo devi abbandonare il tuo amico Mi sono cagato Mi sono cagato Mi sono cagato bonjour à tous les mondes arrivi proprio così con la tatouille o comunque sto a fare una stricca di headshot che fa paura mi sto spaventando proprio io oh che cazzo eh sta a fare wannabe ma che cazzo mi stai mi da spoglione oddio ragazzi non ci fanno a fare beh, non facevo più babbo ok no no si ma ma che cos'è il parkour la matta babbo mi madre e dai non mi fa ridere eccoli ok tutto tranquillo si spegne così d'altro l'hai visto eh? eh qua da per terra è buggato tanto c'è le hitbox rottissime l'altro sta in quel cubo là c'è un altro lutto che scende questo è rompili il legno con lo scope stasera so scarso salute campeoncino welcome guys see you brother oh guarda che ho fatto next level shit una volta si faceva che entravi sul cioè salivi sul razzo eh next level shit sta cosa beh oggi so scarto 025 e ok ma comunque le cecchinate paurose oggi eh madonna sembrava infogliato proprio boom 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 fritti on point